buongiorno a tutti sono Ghost Warrior e oggi voglio farvi vedere una cosa la stella di Magnum una cosa molto semplice che si può fare a Capodanno allora, prima di tutto si mette quanti Magnum volete che scoppiano nella stella a mo' di cerchio poi io prendo un raudo almeno io lo spezzo in cima prendo la polvere e la butto al centro buttateci la nera e quella grigia io in questo caso ce ne ho messi due due dovrebbero bastare per sei Magnum ora questo questo e questo questo è semplice svito questo ha un accendino ino e questo ha un accendino che serve ad accendere questo allora prima di tutto io le faccio così le stelle metto una striscia di svito qui poi allontaniamo le cose e diamo fuoco allo svito il risultato tu sono ecco questo è il risultato non c'è rimasto niente come previsto ha fatto quanti botti doveva fare e per oggi è tutto da Ghost Warrior